Il presidente non l'ho sentito, i sconfitti sono tante e tutti noi siamo messi in discussione chiaramente perché non è facile convivere su questo, però il nostro impegno è quello di lavorare continuamente, con fiducia, cercando di recuperare i giocatori che non possiamo aver avuto fino adesso perché mi sembra che questa cosa non può prescindere da Antonelli basso a sinistra per esempio che può spingere insieme a Vargas e non può prescindere da dare una soluzione con Rossi anche per dare tempo a Iancoli di recuperare la pubaggia che è addosso e quindi abbiamo delle problematiche che vanno oltre quelle che sono il calcio è importante avere la forza di contare a lavorare seriamente, certo lavorare sulle sconfitte non è semplice ma è vero mentale penso perché poi adesso il problema nostro è riuscire il problema anche mio perché io non ho mai perso 5 partite di fila nella mia vita, neanche nei dilettanti quando giocavo e quindi direi che questo è un momento particolare duro però io penso che se noi siamo degli uomini, siamo della gente abituata a fare calcio sa che nel momento difficile si può uscire tutti assieme, io conto anche su questo i miei giocatori perché questa squadra qui ha delle qualità diverse da quelle che ho dimostrato oggi al primo tempo